Buongiorno a tutti, eccoci qui a controllare un attimino oggi per quanto riguarda i grafici delle criptovalute. Oggi prendiamo in esame Ethereum con il dollaro. Come potete vedere il time frame scritto qui in basso è di 4 ore. Possiamo notare che l'Ethereum sta praticamente dentro una zona di supply and demand zone. Quindi la supply è la rossa sopra e la demand zone è la blu sotto. Come potete vedere ci sono delle linee tratteggiate in diagonale. Il segnale praticamente, le candele praticamente stanno rimbalzando in quelle linee tratteggiate dando un periodo di incertezza. Quindi accumulate a lungo termine al momento non fate trading. Grazie. Grazie.